Vediamo un altro Mal che non so leggere Eh, mi sa che devi prenderti l'audio libro Che mi ha mandato? Bizard Bizardone, ascoltami di prego, non me lo merito Bizard Non avere nessuna pietà, Bizard Chi insulta Gisella o me che amo Gisella deve andarsene Ok, ce l'avevano messo due giorni fa Let's go Benvenuti sullo strano canale Gisella, hai sempre quella cazzo di luce divina in faccia Ti amo! Salutatela Se per favore potete salutare Gisella ragazzi Non è una gag, non è una roba che voglio fare a tormentone Bisogna veramente salutarla Ciao, eccoci qua Grazie Questo è un caso che ha fatto molto scalpore in Australia Abbiamo tre assassini Dei barili E un numero impressionante di vittime Dei barili? Come si chiama? Il cavo di orrore Snowtown, Australia Che profumo i piedi callosi di Gisella Non lo sai Endernick N-wardtown M 17 baci in serie per favore Rieccomi Negli anni 90 Questa micro cittadina Fino ad allora conosciuta forse solo dagli stessi abitanti Diventa famosa in tutto il continente Per quale motivo? Per una piccola banca Non contiene 18 Perché sei stranzo? Ormai in disuso E per il suo cavo Lasciate che vi racconti Ma cos'è quel buco nero Sopra con Doe? Cos'è ragazzo di cosa? Cosa c'è qua? E questo è il cavo? Questa orrenda storia Che parla di psicopatici Delitti E di una terrificante scoperta Cominciamo col parlare di John Bunting Un famoso follower di Dario Moccia Nato nel 1966 In una famiglia come tante Unico figlio di due genitori Che fanno del loro meglio Per crescerlo come si deve A causa di una malattia infantile John perde il senso dell'olfatto C'è un altro evento Che devasta la sua psiche Subisce violenza Da un amico del fratello maggiore Mentre cresce Tartufo Ciao Marco Gagagagaga Gagagaga Non dite gagagagagaga Grazie Tartufo Sviluppa un profondo interesse Per le armi Ha detto profumo Ha detto un profumo interesse Fratello maggiore Mentre cresce Sviluppa un profondo interesse No senti Non prendere per il culo John Porco Dio Giselle Hai appena detto Che non ha olfatto C'è un altro evento Che è infantile John perde il senso dell'olfatto C'è un altro evento Che devasta la sua psiche Subisce violenza Da un amico Del fratello maggiore Mentre cresce Sviluppa un profondo interesse Per le armi E la seconda guerra mondiale Avrete già intuito Che la parte Che attira maggiormente La sua attenzione È quella inerente Al nazismo E al trattamento Riservato a chiunque Fosse considerato Inferiore Vuoi per un motivo Vuoi per un altro John appoggia In special modo L'odio per gli omosessuali Che in quell'epoca Sfocia in una infinita Catena di omicidi Certo Perché probabilmente Dopo la molestia Di quel cazzo dell'amico Ha detto Ora li ammazzo a tutti Innumerevoli delitti Che vanno ad aggiungersi All'ecatombe Che ancora oggi Viene ricordata Nei libri di storia La prossima volta Che Gisela dirà Ecatombe Io spengo la live Anche se si tratta Fra un mese John trova Lavoro in un crematorio E nasce in lui Un ulteriore interesse Quello per l'anatomia umana Vabbè Ma è costruito Per essere Un fottuto pazzo A un certo punto Viene licenziato Ma i motivi Non sono mai Stati chiariti Si trasferisce Con alcuni amici Nei soborghi di Adelaide Lì Trova un altro lavoro E fa amicizia Con Mark Ray Hayden Con chi? Aggiunge alla lista Di amici Robert Wagner Ecatombe Un uomo dall'infanzia Travagliata Che lo ha visto Vagabondare per le strade Finché Barry Lane Conosciuto come Vanessa Un travestito Nonché pedofilo Già con Nono amici Marco Ha donato due euro Marco raccontaci Di un crime Che hai vissuto In prima persona Gagagaga Un crime Intanto grazie Alle ripetute donazioni Nono amici Marco A me mi hanno molestato Quando ero piccolo In bus Lo raccontavo spesso Mi hanno ficcato La mano Dentro il culo Me lo accrezzavano tantissimo Nel buco del culo Me lo molestavano tantissimo A me piaceva Non avevo molto Da mia madre A mio padre A livello affettivo Anzi ci odiavamo Quindi ho detto Dai Almeno qualcuno sul bus Non lo ha in un certo senso Adottato Facendone il suo amante Visto che hanno Un passato di abusi Molto simile John e Robert Si intendono La perfezione John si porta Ancora dietro Il trauma Delle violenze Subite da bambino E dirige la Beato te Il mio primo tutto per te bacione Eccolo Grazie Tetsuro Grazie mille Rabbia mai espressa Contro Barry Nonostante lo detesti Però Non ci scherzi Su queste cose Oh Mi è successo a me Faccio il cazzo a voi Si finge suo amico Per guadagnarsi La sua fiducia Insieme a Robert e Mark Quindi fanno Alleanza Lui Vanessa e Cropot Che gli è animato Dall'odio per i pedofili Comincia a pianificare L'omicidio di Barry E guardando al futuro Di tutti gli adulti Che dimostrano Un malsano interesse Per i bambini Una specie di vigilante Otto Nella mente di John Omosessuale Equivale a pedofilo E su questa errata convinzione Si basa Il suo deviato Progetto di morte Ma effettivamente Perché i pedofili Vanno sempre con i bambini Raramente vanno con le bambine Verro? A fine agosto del 1992 Clinton Ma se mi faccio una sega Con me stesso Da bambino In foto Sono pedofilo 22 anni Scompare Comincia ufficialmente Questo agghiacciante caso Che sconvolgerà L'intera Ma il cazzo Non so Marco La maggioranza Sono bambine Non lo so Non lo so Come si Come si Se io ho una foto Di me stesso Da bambino Nudo E mi sporo una sega Sono pedofilo? Sono questi pedofili Un narcisista Boh Australia E di riflesso Il mondo intero Scusatemi Due anni dopo John comincia una relazione Con Elizabeth Harvey 47 anni La donna Ha un figlio Di 14 anni Bella amicone Genovese Com'è? Dai ti racconto Un aneddoto Ogni inverno Ho questa abitudine Di far cadere Accidentalmente La felpa Secondo te È corretto Se cammino A passo felpato? Ah 14 anni James Che John Riuscito a diventare Per lui Una figura Paterna Sottopone Un martellamento Continuo Sull'odio Per gli omosessuali Nel dicembre Del Ci guardiamo Gli ultimi Due minuti Stavolta Senza fare I deficienti Facendone Il suo amante Visto che Ha Travagliata Che lo ha visto Vagabondare Per le strade Finché Barry Lane Conosciuto come Vanessa Un travestito Nonché pedofilo Già condannato In precedenza Non lo ha In un certo senso Adottato Facendone Il suo amante Visto che Hanno un passato Di abusi Molto simile John e Robert Si intendono La perfezione John si porta Ancora dietro Il trauma Delle violenze Subite da bambino E dirige la rabbia Mai espressa Contro Barry Certo Neville Grazie per l'abbonamento Prima volta con noi Ecco la nostra Vanessa Nonostante lo detesti Però si finge Suo amico Per guadagnarsi La sua fiducia Insieme a Robert E Mark Anche egli animato Dall'odio Per i pedofili Comincia a pianificare L'omicidio di Barry E guardando al futuro Di tutti gli adulti Che dimostrano Un malsano interesse Per i bambini Nella mente di John Omosessuale Equivale a pedofilo E su questa errata convinzione Si basa il suo Deviato progetto di morte A fine agosto del 1992 Clinton Tresize 22 anni Scompare Clinton Tresize Comincia ufficialmente Questo agghiacciante caso Che sconvolgerà L'intera Australia E di riflesso Il mondo intero Due anni dopo John comincia Una relazione Con Elizabeth Harvey 47 anni La donna Ha un figlio Di 14 anni James Ma quello dietro È un sacco di olio O un sacco di vino Che John Riuscito a diventare Per lui Una figura paterna Sottopone A un martellamento Continuo Sull'odio Per gli omosessuali Pazzesco Quindi si mette L'ostatizia Statizia Ha un figlio E lui lo cresce Come un omofobo Nel dicembre del 1995 Scompare Ray Davis 26 anni Ex ragazzo Di Suzanne Allen A sua volta Amante di John Secondo Suzanne Ray ha molestato Suo nipote E lei lo ha denunciato Alla polizia Ha fatto anche Un'altra cosa Lo ha riferito A John Poco dopo Ray è scomparso Poco dopo? John rivela a James Che è stato lui A uccidere Ray Per quello che aveva fatto Al nipote di Suzanne Ray è morto Tra mille tormenti Dopo essere stato Sadicamente torturato Minchia Se ci sta Tantissimo Un film Thriller noir Su sta roba qua Come protagonista John però A modi vigilante Buono Che però Distrugge tutti Quelli che Stuprono i bambini Peccato Ce l'ha pure Quelli omosessuali Quindi quella roba L'ha un po' Però ci starebbe Un sacco Un film Su sta roba qua Tonky Grazie per l'abbonamento John e il suo gruppo Mi sono perso Non sto a capire un cazzo John è stato molestato Da piccolo Questa molestia L'ha fatto crescere Un po' Come un omofobo Ha conosciuto Questi amici qua Con uno C'è stata amicizia Perché hanno subito Un po' le stesse cose Gli altri Fra omosessuali Travestiti Gente che è un po' sturo Che fa sta roba qua Che molesta Li sta ammazzando Tutti Comunque Li fa sparire Un gruppo di sbandati Vendono la roulotte Dove viveva Ray Così come tutti I suoi averi Dario Moccia ha rotto il cazzo Non insultate altri streamer Nella mia stream Si parla di me E basta Prima di ucciderlo Si sono fatti dare I suoi dati Della previdenza sociale E ritirano puntualmente L'assegno di disoccupazione Forse James Si lascia sfuggire Qualcosa al riguardo Parlando con la madre Susanne Che diventa così Una scomode Mica il film c'è? C'è il film Si ha snowtown murders Cazzo Stimone che va eliminata Sparisce nel nulla E ne viene denunciata La scomparsa Senza che ulteriori indagini Arrivino a scoprire Che fine ha fatto Nel settembre del 1997 È il turno di Michael Gardiner Ciao ma Grazie bello 19 anni È cugino della moglie Di Robert Wagner Ed è gay Se prima Robert Si disinteressava Della vita privata Del ragazzo Dopo aver conosciuto John Ed essere stato Plagiato da lui Lo guarda con occhi diversi Animati dall'avversione Verso gli omosessuali Michael scompare E di lui Non si saprà più nulla Per due anni Nell'ottobre del 1997 Barry Lane Si aggiunge alla lista Di persone Che secondo John Devono lasciare Anticipatamente Questo mondo Un mese dopo Il suo ultimo amante Thomas Trevely Che gisellata Sti immagini 18 anni Viene trovato Penzolante Dal ramo di un albero Ah ok Lo si classifica Come suicidio Ma si scoprirà Più tardi Che il ragazzo Non voleva affatto morire Ma assurdo Che ancora sta parlando Di sparizioni Non ha detto È stato John Questo dizio qua Inosservato Per un sacco Nell'aprile del 1998 Penzola Penzola 29 anni Amico di James Come per tutte le altre Ma Sembra un modello Di quei giochi cinesi O giapponesi Che giochiamo In stile PS1 Dove gli mettono La faccia Di una persona vera In un modello 3D Di merda Non sembra Veramente Quella cosa là Vittime Il gruppo di John Sfrutta i dati Della previdenza sociale Per usufruire Dell'assegno mensile Ciao Marcolino Volevo chiederti Se porterai in live Di nuovo Marco Cupidino Un bacino Ci penso spesso Dovrei Sua tuttora Che siamo un po' di più In live Un bacio anche a te Grazie dell'abbonamento Soccupazione Nell'agosto del 1998 Il fratellastro di James Troy Ud 21 anni Scompare Non sto capendo niente Dell'albero genealogico Però di quello Che sta succedendosi James ha riferito a John Che Troy Lo ha molestato Quando era piccolo Nella mente di John È esplosa una bomba E l'attimo dopo Di Troy Non c'era più traccia Il ragazzo È andato incontro La sua fine Nel più doloroso Dei modi Torturato da John Mark Robert E dallo stesso James Che hanno prolungato La sua agonia Il più a lungo possibile Ma tutte queste persone Uccise Dove sono finite? John Ha un capanno Accanto alla propria Abitazione Nel capanno Ci sono dei bidoni Che aumentano Di numero Man mano Che passa il tempo Così Non possono Non possono entrare Sono piccoli I bocchettoni Come aumentano Anche I bocchettoni Il cazzo di coperchione Che le fosse Che John scava Quando non ha tempo O voglia Di comprare Un nuovo bidone Nel settembre del 1998 Scompare Frederick Brooks 18 anni Un ragazzo Con una disabilità Intellettiva I quattro aguzzini Tra i quali C'è di nuovo James Lo torturano Con la corrente elettrica Lo picchiano Con diversi attrezzi Spengono sigarette Sulla sua pelle Lo stra Tampone Sta attento Strangolano Fino a fargli Perdere conoscenza Per poi farlo Rinvenire E ricominciare Da capo Come molti altri Finisce in un bidone Nel capanno Di John Nell'ottobre del 1998 Gary O'Dwyer 29 anni Scompare È diventato Disabile Fisico Intellettivo Dopo un incidente D'auto Non è più Una questione Di omosessualità O pedofilia Bensì Di prendere Di mira Persone Che non possono Difendersi E che magari Hanno qualche Soldo da parte Minchia Totalmente Sfuggire di mano Sta roba John John Mark Robert James Lo attirano A casa Di John Con la Scusa di bere Qualcosa Insieme La sua famiglia Non lo vedrà Mai più Un mese dopo Nel novembre Del 1998 Elizabeth Aden La moglie Di Mark Scompare Viene Frettolosamente Eliminata Perché Mark Le ha raccontato Ma Esiste la polizia Nell'universo Di John Degli omicidi La polizia Si insospettisce Perché non è Il Marito A denunciarne La scomparsa Bensì I vicini Di casa Come mai La persona Lei più vicina Se ne infischia Di cosa Possa esserle Accaduto Robert E John E gli amici Con cui viene Visto sempre In giro Vengono interrogati La scia di sangue Che si sono lasciati Dietro Sta per essere Scoperta Perché gli Investigatori Cominciano a mettere Insieme i pezzi Di un puzzle Costituito Da persone Svanite nel nulla Che i due uomini Conoscevano John capisce Che il suo Bidoni Perché la grassa Gruppo ha tirato L'attenzione Delle autorità E prima Che possano Presentarsi A casa sua Con un mandato Di perquisizione Si affretta A nascondere Che fallimento Cazzo Che fallimento I doni Da un'altra parte Girando Per varie Cittadine Con Robert Arriva Snowtown A 160 km Dalla sua abitazione E sceglie L'ex filiale Di una piccola Banca del posto Un edificio Abbandonato Dal 1990 I due uomini La affittano Per 60 dollari Al mese Affermando Che la useranno Come magazzino Beh effettivamente Sanno già Che all'interno È presente Qualcosa Che farà Loro Comodo Il cavo Piccolo Anch'esso Ma sufficiente A ospitare I bidoni Con il loro Macabro Contenuto Un sacco Di coca cola Alla ciliegia La polizia Non li troverà Almeno Per il momento Quando 60 dollari Al mese Beh si Faceva schifo Arriva l'aprile Del 1999 Era una cantina Un po' più grande John comincia A pensare A una soluzione Permanente Quando arriva L'aprile Del 1999 John comincia A pensare A una soluzione Permanente E propone La sua idea Agli altri Prendere I bidoni Più vecchi Che contengono Corpi di vittime Uccise Due anni Prima Ormai ridotte A una massa Di materia Decomposta Aprirli Gettare del cemento Per appesantirli E poi Gettarli in mare Cominciano L'orrenda operazione Ma è solo John Che riesce A proseguire Perché Come detto All'inizio Ha perso Il senso Dell'olfatto E per lui Non è un problema Assurdo Immune Dallo schifo Che rappresenta Sta roba Assurdo Gli altri Si sentono male Non appena Aperti i contenitori Certo Visto che Non ha voglia Di fare tutto Da solo John Archivia il progetto Assurdo Assurdo Nonostante i sospetti Della polizia La voglia di uccidere Torna a farsi sentire E nel maggio Del 1999 Scompare David Johnson 24 anni Fratellastro Di James Come detto Arrivati a questo punto Per John Non ha più importanza Se la vittima Sia o meno Un omosessuale O un pedofilo Vuole sequestrare Qualcuno E fargli del male Assieme ai complici Pazzesco Minchia mangiato Dall'oscurità Sto tizio Il gruppo Attira David Nell'ex banca E mentre viene Torturato Gli fanno ascoltare La registrazione audio Fatta mentre altre vittime Venivano seviziate Strano David soccombe Alle percosse A tutto il resto Finendo in un nuovo bidone John Confesserà poi Di aver tagliato Un pezzo Della sua carne Di averla cucinata E di averla mangiata In compagnia di Robert Tutto questo Con gli investigatori Alle costole Stanno rispolverando Tutti i casi Che li vedono Con Mamma mia Che genocidio Involti assieme A Mark e James Ci si avvede Degli assegni Di disoccupazione Riscossi Per conto di persone Che Come sono Edgy Li mangiano Dopo che li hanno ammazzati Sono state dichiarate Scomparse Così come Dei movimenti Sui conti correnti Delle stesse Vabbè Stupidissimo Chi sta usando Quel denaro John e Robert I due sospettati La risposta A questa domanda Arriva di lì a poco Alle costolette Sì sì Il 16 maggio 1999 Un agente Che sta pattugliando Le strade Di Snowtown Vede un fuoristrada Parcheggiato Poco lontano Dalla ex banca Un rapido Controllo Della targa Ed esce il nome Di John Bunting Segnalato Come indagato Sui casi Di scomparsa Di Barry Lane Ed Elizabeth Hayden Altro controllo E salta fuori Che John Ha affittato Proprio la banca Per usarla Come magazzino Si decide Di perquisire L'edificio E vengono trovati Parecchi scatoloni Contenenti Guanti monouso Manette Coltelli Di tutti i tipi Taniche Di acido Cloridrico E una montagna Di deodoranti Per ambienti Nel momento In cui si apre Il cavo È come aprire Le porte Dell'inferno Stesso Che John E i suoi complici Hanno portato Sulla terra Merda Ci sono sei barili Di plastica Che contengono I resti Di otto Esseri umani Altri quattro corpi Vengono trovati Sepolti Nel giardino Della casa Di John Portando il numero Delle vittime A dodici Che sensazione Deve essere Che scavi E trovi Una cazzo Di persona John Robert E Mark Vengono arrestati Ma guarda che furbetto L'amico Guarda Giovanni Che faccina Ricostruire L'intera vicenda Non è facile Ma John È collaborativo E non si fa scrupoli Comunque John Ora come ora Ha proprio Il design Del twitcher Medio italiano Poli a spiegare Per filo E per segno Chi ha fatto cosa Mentre lui Si dichiara Fieramente Il capobanda Affida il ruolo Di braccio destro A Robert E un ruolo minore A Mark Che ha partecipato Alle torture Ma non ha mai ucciso Nessuno Da solo James Ha partecipato Solo in un paio Di occasioni John E Robert Vengono processati Insieme Robert Si dichiara Colpevole Per gli omicidi Che è successo Che rumore era Cosa ha fatto Un altro rumore Sì Credo in dio Sì Ok Credo in dio Di Barry Lane Frederick Brooks E David Johnson John Si dichiara Non colpevole James Accetta di Testimoniare Contro i due In cambio Di un patteggiamento E uno sconto Della pena Dopo quasi un anno Di dibattimenti Necessari a fornire Alla giuria Una visione Completa Di anni Decipato Solo in un paio Di occasioni John E Robert Vengono processati Insieme Robert Si dichiara Colpevole Per gli omicidi Ma che cazzo è Gli omicidi Si dichiara Colpevole Per gli omicidi Ma che bottiglia Non è caduto un cazzo Di anni e anni Di crimini John e Robert Bottiglia Che scoppietta Ma può essere Robert Vengono giudicati Colpevoli Rispettivamente Di 11 e 10 omicidi La condanna Per John È di 11 ergastoli Senza la condizionale Mentre per Robert È di 10 ergastoli Senza la condizionale Merda Mark Hayden Viene processato Da solo E condannato A 25 anni Con un minimo Da scontare Di 18 Il processo Di James Si conclude Con la condanna A 4 ergastoli Con un minimo Da scontare Di 26 anni Un caso Che ha visto Formarsi Un gruppo Di persone Accomunate Dal piacere Eccolo qua Di torturare E uccidere Con il falso Pretesto Di liberare Il mondo Dai pedofili O presunti tali Ma ce lo vediamo Se non fossero Stati fermati Il numero Delle vittime Sarebbe raddoppiato Triplicato Arrivando magari A sfiorare O superare Il centinaio Di persone Fatte sparire Per puro Passatempo Che copertina Di mardo Perché Non è male Mi sa Non ha gisellato Non ha gisellato O presunti tali Se non fossero Stati fermati Il numero Delle vittime Sarebbe raddoppiato Triplicato Arrivando magari A sfiorare O superare Il centinaio Di persone Fatte sparire Per puro Passatempo E' un po' Una gisellata E' un po' Centinaio Ok Un po' La gisellata E questa E questa era la storia Di cui ho voluto Parlarvi oggi Come sempre Grazie di cuore Per aver guardato Questo video Alla prossima Minchia se te ne volevi andare Subito gisell Grazie Mighty Fritz Grazie Grazie mille Dove è andata E' sparita No no Ha tagliato Il video Dimentichi sempre A chiudere prima Il video Chissà Ti pensa Mentre ringrazia E saluta E' il momento Di fare quella cosa Avremmo dovuto fare Avremmo dovuto fare Fertinculo Ha donato Due euro Ciao Marcolino Un bacino Sul pisellino Minore tre Grazie Grazie Speriamo Non credo che rimetti rumori Il giudice medaverso Che sentenziava con il sabermartello Se proprio ci fai caso Non penso Un'altra marcolina Grazie Sei un beta Marco Sono io Marco guarda i canali Scaring scares And expo Lì si che trovi roba davvero scary E interessante Sono un po' Mi rivedo Non so Guardare altri canali di horror Mi sembra un po' Un tradimento Horrorino fast Oh un horrorino Oh un horrorino di Non mi va tanto bobo Un horrorino di Come dire attento sopra Marco è una storia horrorina molto particolare Immaginiamo la voce di Gisella A Cittadella La città dove abito C'è un gigantesco hotel Che si chiama Palace Questo hotel da quando è stato costruito Da circa nel 1950 Non ha mai avuto alcun tipo di ristrutturazione Per quanto riguarda il mobilio interno Gli scaffali La carta da parata eccetera Restando letteralmente bloccato nel tempo Quando è stato costruito Hotel chiuso nel 2008 Sotto circostante Misteriose Si dice che Si dice che Ammesso mi piace al mio commento Siete stati voi Grazie dai like ragazzi Magari lo vede così Grazie mille Si dice che sia fallito Ma si pensa Ci siano motivi molto più oscuri E cosa successe veramente Posso salire per fare delle foto dall'alto Questo aveva chiesto Una ragazza di 17 anni Della detta della reception dell'hotel Il spa la portava una borsa Di quelle che si usano Proprio per gli apperchi fotografici Sarei all'ottobbiano Quasi 30 metri di altezza Dove si trova Il ristorante panoramico La ragazza uscì sul terrazzo Si affacciò Scalcola la balaustra in ferro Sei una minchiata Mincazzo Scalcola la balaustra Si è una scelenza Mi arrabbi Scalco